Ha tentato di uccidere una connazionale con tre coltellate alla schiena. L'aggressore, un nigeriano di 24 anni, è stato arrestato dai carabinieri. I fatti risalgono al 22 luglio scorso a Torino, quartiere Barriera di Milano, dove a seguito di una discussione per futili motivi, iniziata all'interno di una nota discoteca e proseguita in strada, la donna è stata inseguita dal suo aggressore a coltellata. Durante la colluttazione è riuscita a strappargli una collana con ciondolo, rimasta sulla scena del crimine, che una volta ritrovata lo ha inchiudato e portato alle vallette.